ariete qualche tensione nei rapporti sentimentali farà da cornice ad un periodo che vede una irrequietudine interiore accentuata è possibile anche stringere rapporti amorosi trasgressivi per cercare quel guizzo che appaga la vostra voglia di nuovo toro non vi sentite in forma fisica ottimale e questo accresce la vostra sensazione di immobilità anche se in realtà le configurazioni astrali promettono buoni esiti alle vostre iniziative la seconda parte della giornata vedrà un miglioramento dell'umore gemelli nonostante alcuni aspetti dissonanti che intervengono con freni e qualche ostacolo da superare siete in questo momento favoriti da marte benevolo che vi fa recuperare un po di grinta ed energia le attività che svolgete sono vissute intensamente cancro una rivoluzione psicologica si sta verificando nel vostro io le ambizioni diventano forti ma spesso si scontrano con la resistenza degli altri causando qualche contrasto di potere le relazioni si fanno complesse ma assumono importanza leone potete contare su vantaggiosi contatti con le persone del vostro ambiente quotidiano anche con i parenti che vi offrono quantomeno un sostegno affettivo e morale giovane la seconda casa solare provvede a guarire qualche ferita finanziaria vergine il contesto astrale è armonico siete invitati ad esprimere le vostre potenzialità e a intraprendere azioni per migliorare ciò che vi sta a cuore non sottilizzate con l'osservazione di dettagli che non cambiano la sostanza e diventano solo un impedimento bilancia le questioni amorose sono quelle che assumono maggior rilievo in questo momento tenere in transito nel segno riceve aspetti da urano e plutone che sollecitano la parte passionale inconscia e trasgressiva inusuale di un amore scorpione protetti da un cielo astrale favorevole potete lanciarvi in imprese anche impegnative che faranno risaltare le vostre capacità e vi condurranno al successo la fiducia in voi stessi è alta non accettate osservazioni o critiche ma cercate di tenere sotto controllo le ambizioni sagittario non fate spegnere gli impulsi di entusiasmo da un saturno un po troppo rigoroso mantenete viva la vostra indole cameratesca e ottimista otterrete migliori risultati sia dal punto di vista pratico sia da quello emotivo e delle relazioni capricorno le percezioni inconsce hanno connotati affettivi e sentimentali un rapporto amoroso si approfondisce e diventa un legame coinvolgente lo spessore delle vostre relazioni viene messo alla prova non saranno solo rose e fiori qualcosa potrebbe rompersi acquario un buon saturno concede di consolidare alcune situazioni dopo una lenta costruzione della quale siete stati artefici instancabili nuova carica energetica in vista con la quale sarete in grado di affrontare la fatica del vivere di ogni giorno pesci cercate di fare chiarezza nei vostri programmi e non cedere al disordine materiale ed emotivo che vi contraddistingue l'organizzazione metodica delle vostre giornate o alleviare le contrarietà che in questo periodo dovete sopportare vostro malgrado buone stelle